E' un vero anticipo. Come potete vedere ci sono anche le telecamere subacquee che riprendono in streaming appunto la cerimonia è quella che farà lo spettacolo che vedrete tra poco. E' un vero anticipo. Quello che vedrete tra poco no, il spettacolo subacqueo sono evoluzioni subacquee con il raggiungimento del record mondiale di profondità. Con un'amerta che l elections direttore mondiale di appnea che raggiungerà appunto un record mondiale di y-40. Non sognare, non sognare, non sognare. Grazie. 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 Grazie.